Intanto raccontare al Paese che è in corso uno stravolgimento delle regole della democrazia, che il Parlamento viene portato al guinzaglio e con la museruola, da un governo arrogante e anche probabilmente spaventato dalla realtà sociale che cerca di occultare, di nascondere sotto tonnellate di propaganda. La Boldrini difende le prerogative del Parlamento e allora l'accusa è la Boldrini fa politica. Maurizio Landini difende i diritti dei lavoratori e allora l'accusa è Maurizio Landini fa politica. Pare che l'unico titolato a fare politica e anche a fare antipolitica sia soltanto Matteo Renzi, ma questo mi dispiace per lui, non potrà essere.